Io, ogni volta che devo iniziare una giornata di riprese, prego. Nostro signore, che scorri nei circuiti interni della mia videocamera. Rendi ferma la mia mano. Va bene. Regola la forza delle mie dita attorno all'obiettivo. Vorrei colpirti. Ma è lo stesso se mi colpisci. Uh, scusa. Aiutami a trovare sempre una nuova inquadratura. E allontana da me la tentazione di essere perfetto. Rissolvi i fantasmi degli errori passati e delle immagini fuori fuoco che mi porto dentro. Proteggi me e la mia videocamera e fa che niente ci accada. Me lo ripeto sempre. Non affrontare ogni ripresa come se fosse l'ultima. Perché poi ce ne sarà sempre un'altra. Non pensare alle immagini che hai davanti agli occhi. Grazie. Ma a quelle che ancora non vedi. E questo è tanto il flickering in questo tempo. Va bene. Aspetta il capo. Metti lo stabilizzatore. Grazie a tutti. Carli. Grazie.